E' bello! Che bella amici a me! Facciamo questo nuovo colo! E' un down e una viscola litigano E' un piccolo Ho detto che tu non devi fare questo E' un piccolo HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA No, non si può scontrare, io ho fatto che si mette dentro l'armature questo killer muoio Mi sono cagato sotto il piano No, con questo killer non si deve mai mettere degli armature Lo so, ma c'era Vincenzo C'era Vincenzo che mi ha fatto body block L'unica cosa scherzata è il reno C'era detto la rimaggio Allora non è vero, non è vero C'è stato un po' di bloccato Vediamo appena che si è bloccato l'uscita no ce n'è no ce n'è ma ce n'è ma dimmelo prima senza abilità ti ho distrutto ma mi è rosso sotto la capra senza nulla io non lo so la scatola cosa è la scatola è stato a farla dopo i demoni è stato un mio padre è stato un padre ma dove sta? è stato un dei demoni è stato un demoni è stato un padre ma quanto si deve il palazzo mi fa iah 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 mamma mia oh se dai dai da dietro no da dietro a me no non c'è era dietro di me sinistra teff 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 ma sinistra giusta ma cagato cazzo che sto co-beats ma cagato cazzo ma ci mette warden ma ci mette warden ma cagato proprio cazzo sto cazzo è bizzo ma cagato cazzo sto cazzo è blu blu grazie